Oppo Summer Tour nasce dalla volontà di portare il racconto dell'innovazione e della tecnologia dei prodotti Oppo al grande pubblico italiano. Parliamo di un tour che andrà a toccare le principali tra le 5 città italiane e si svolgerà nei centri commerciali. Oppo Summer Tour consentirà ai consumatori di entrare in un viaggio tecnologico e questo grazie ai nostri formatori che daranno la possibilità di toccare con mano i nostri prodotti e la nostra tecnologia. In più ci sarà la possibilità di far parte dei casting per diventare i prossimi protagonisti della campagna pubblicitaria di Oppo. Il protagonista indiscusso è Oppo Find X3 Pro che con la sua fotocamera e display da più di un miliardo di colori andrà proprio a catturare i volti dei protagonisti che vorranno proprio partecipare ai casting. Ovviamente per chi non potrà venire fisicamente negli stand che abbiamo installati durante il periodo estivo ci sarà la possibilità di partecipare online e questo andando semplicemente sul sito www.opposummertour.it caricare la propria foto, inserire i propri dati e a quel punto partecipare ai casting. Con Oppo Summer Tour siamo sicuri di portare una nota di colore importante nell'estate degli italiani quindi buona estate con Oppo.